salve a tutti dar papi allora questo video dobbiamo mandarlo al dottor germano gizzi perché vogliamo capire il problema di bella che problema c'hai bella guarda che problema a parte la coda che sta spazzando tutto il piazzale tutto quanto guarda e poi so un quarto d'ora che fa così e che ride facci vedere come ridi allora poi dobbiamo far vedere come ride bella 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 comunque vogliamo un parere del dottor germano gizzi davanti a questa situazione di rotolamento di bella nel rifugio fai vedere come da la zampa dai vediamo tutte le qualità della nostra bella bella seduta seduta buona buona seduta giù 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 seduta seduta dai dai stiamo a fare una figuraccia va bene da c'è la zampa almeno dai vediamo un pochettino questa zampa la zampa no perché sta troppo presa dalle coccole sta troppo presa dalle coccole niente abbiamo fatto una figuraccia in questo video scusateci però comunque bella è così dai tutto questo succede ecco ecco guarda è troppo bella lei non si chiama bella lei si chiama bellissima